La sai l'ultima su Trump? Ecco, sarebbe sbagliato a ridurre così a una nota di colore l'ultima iniziativa del capo della Casa Bianca. È vero, il suo tweet di ieri, nel frattempo ovviamente ne ha sparati un'altra dozzina, fa effetto per il richiamo a Game of Thrones, il trono di spade, la celebre saga fantasy che ha un mucchio di fame in giro per il mondo, un effetto studiato e voluto da Trump, che sulla comunicazione ha costruito la sua carriera fin dagli esordi e che in questi due anni da presidente ha più volte usato canzoni, film e altri prodotti di intrattenimento per i suoi scopi. Sanction are coming, le sanzioni stanno arrivando, cita con gli stessi caratteri e la stessa fotografia. L'inverno sta arrivando, uno degli slogan della serie. Ma chi è il destinatario della minaccia? L'Iran, che Trump ha riportato al ruolo di nemico numero uno, rinnegando l'intesa sul nucleare che Barack Obama aveva faticosamente raggiunto. E qui sta la sostanza politica della faccenda. Ripristinare le sanzioni è solo l'ultimo passo di un disegno tutt'altro che improvvisato da parte di Trump. Smantellare punto per punto il lavoro del suo predecessore. In fondo è questa la sua linea d'azione, come hanno confidato sotto anonimato i suoi stessi collaboratori. Welfare, migranti, clima, sicurezza. Tutte le scelte di Obama sono state ribaltate, un dietrofront sistematico. Ancora più evidente a ridosso delle elezioni di metà mandato. Martedì negli Stati Uniti si vota per il rinnovo del congresso e i sondaggi sono a favore dei democratici. E Obama è tornato in campo. Ma gli indicatori economici sono buoni e Trump è un animale da campagna elettorale. Che poi anche a Teheran vedano il trodo di spade, come dimostra il tweet con cui Qassem Suleimani, capo delle forze Quds, uno degli uomini più potenti e abili del Medio Oriente, ha risposto a Trump, dice solo come tra realtà e fiction sia sempre più difficile distinguere. Impossibile, forse.